Non esiste alcuna emergenza di sanità pubblica relativa alla meningite, né alcuna difficoltà di riperimento dei vaccini nel paese o interruzione nell'approvvigionamento. Il Ministero della Salute interviene per arginare la psicosi sul rischio meningite, ma non si placa l'ansia delle mamme che in primo luogo fanno riferimento ai medici di famiglia e pediatra per richiedere quale tipo di vaccino sarebbe meglio eseguire. Eppure non esiste motivo per una corsa indiscriminata al vaccino, soprattutto fra le persone che non sono a rischio. Lo ha rimarcato questa mattina ai nostri microfoni anche il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno, il dottor Angelo Gerbasio, anticipando che anche al nosocomio salernitano è arrivata una scorta di vaccini per meningococco. Il picco diciamo in questo momento è un picco solo per l'influenza. Il picco, quello reale diciamo avverrà per fine gennaio nella prima decada di febbraio. Ci sono stati casi di influenza, però influenza diciamo senza complicanze notevoli. Noi ci siamo attrezzati come azienda per acquisire delle dosi di vaccino per il meningococco che daremo a facoltà degli operatori che sono nelle aree critiche, cioè pronto soccorso, rianimazioni, malattie infettive. Abbiamo già attrezzato però il pronto soccorso di eventuali presidi, mascherine, tutti quei presidi che servono per un discorso di prevenzione. C'è da dire che molte mamme hanno preferito nel passato non vaccinare i bambini, c'era una sorta di perplessità in merito al vaccino della meningite. Adesso invece quando poi si sono scatenati diversi casi un po' in tutta Italia, a mani della norma, scatta un po' la psicosia a voler fare il vaccino, sembra quasi una contraddizione. Sì, è vero, forse non fu fatta all'epoca, qualche anno fa, questa campagna di prevenzione per il meningococco, però diciamo che c'è adesso la corsa reale di farsi vaccinare. È un discorso logicamente territoriale, dosi che dovranno essere fatte dai dipartimenti materno-infantili delle asole. In tanti con i bambini hanno fatto ricorso al pronto soccorso qui del Ruggi, si registrano diversi accessi. In linea di massima ricordiamo che questa influenza porta dei picchi abbastanza alti di temperatura, ma ovviamente siamo nella norma, basta rivolgersi al medico di famiglia. Sì, diciamo che il medico di famiglia è o meglio il pediata, dovrebbe darci una mano a livello del territorio. Qua dovrebbe arrivare solo caso con complicanze che richiedono il ricovero ospedaliero.